La molla è scattata per motivi sentimentali. Un raptus di gelosia stava per costare la vita a un carrozziere di origini africane aggredito nel bagno della sua casa a Ponte Lambro. La sua prontezza di riflessi però gli ha fortunatamente salvato la vita e un altro uomo, il suo rivale in amore, è finito al carcere del Bassone con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si è consumato sabato a Ponte Lambro, nella centralissima via Roma, la strada del comune. L'aggressore, un operaio 45enne dell'Erbese, sospettava che tra sua moglie, dalla quale pare fosse in via di separazione, e l'immigrato africano ci potesse essere una relazione e così si è appostato nel bagno esterno della casa del rivale con un coltello da macellaio da 39 cm. Ha atteso che l'uomo andasse alla toilette, dopodiché l'ha aggredito cercando di accoltellarlo. Il carrozziere però è riuscito a evitare i fendenti e a bloccare l'aggressore. L'ho anche preso il spoggiatico a portarli fino a fuori. Una volta fermato, l'operaio 45enne è stato arrestato dai carabinieri di Erba con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere al Bassone di Como.